Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, un luogo che non conoscete perché siamo nel refettorio del convento di San Giovanni Rotondo. Questo era il luogo dove Padre Pio si sedeva per pranzare insieme ai suoi confratelli. Invece qui c'è il luogo dove in questo refettorio grande era il suo posto nei primi anni dal 18 al 28 e dal 28 in poi c'era l'altro refettorio che abbiamo già visto in altre occasioni con il nostro minuto con Padre Pio. Da questo luogo perché? Perché questo fu un luogo che come i tanti visitatori illustri che vennero qui a San Giovanni Rotondo si fermavano spesso, avevano modo anche di colloquiare con gli stessi frati. In questo luogo c'è stato anche un altro grande santo, San Giovanni Paolo II, quando giunse qui da cardinale nel 1974, furono dei giorni intensi, lui venne qui proprio per ricordare la sua ordinazione sacerdotale, venne insieme ad altri sacerdoti polacchi. Si sedette proprio qui con gli altri frati per la colazione. In fraternità, in quel giorno, proprio qui a San Giovanni Rotondo c'era anche un altro importante figlio spirituale di Padre Pio che era fra Daniele Natale, fratello laico, oggi servo di Dio, che stette qui col Papa per servire la colazione. Furono dei giorni intensi dove il 2 novembre, loro arrivarono qui il primo novembre, la sera del primo novembre, ma il 2 novembre celebrarono le consuete messe per i defunti, una prima messa nella cripta dove fu lo stesso Voitila a presiedere e durante l'Omelia disse, specialmente impressionante, profondo, il fatto che celebriamo questa Eucaristia vicino alla tomba di Padre Pio che predicava la passione, morte, risurrezione di Gesù, nostro Signore per mezzo di tutta la sua vita. Terminata la messa, prima di togliere i paramenti sacri, il porforato si mise in ginocchio, quasi un quarto d'ora, dinanzi alla tomba di Padre Pio. E poi ancora una seconda celebrazione, questa volta invece l'Omelia la tenne il Vescovo d'Escur che ricordò che il Cardinale era lì proprio per commemorare la sua ordinazione. Siamo nella chiesa grande di Santa Maria delle Grazie dove i frati poi chiesero a Voitila una firma sul registro dei visitatori illustri. Il porforato scrisse, mi raccomando, con tutta l'Arcidiocesi di Cracovia, con tutte le persone che spesso pregano il servo di Dio Padre Pio e qui poi ricordò l'anno della sua ordinazione sacerdotale e quindi la colazione in questo luogo. Subito dopo andarono tutti a Monte Sant'Angelo. Mentre la mattina del 3 novembre il Cardinale è ancora qui e presiede l'Eucarestia nella chiesetta antica. Nella chiesetta antica lui espresse un ricordo eccezionale, una vecchia chiesa che per me è stato un luogo dell'incontro con Padre Pio. Ho ancora nei miei occhi la sua presenza, la sua persona, le sue parole, la Santa Messa celebrata da lui a quell'altare laterale. Poi questo confessionale dove andava a confessare le donne, la sacrestia, l'altare centrale dove adesso siamo noi e dove dopo la sua messa lui distribuiva la Santa Comunione. Di qui i frati poi lo hanno accompagnato nei luoghi del convento e fu per lui una giornata intensa, particolare, significativa per ricordare non solo un grande amico, un santo, ma per ricordare la sua ordinazione sacerdotale qui a San Giovanni Rotondo. Grazie per la visione!